ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere questo effetto silhouette appunto in photoshop prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora noi passiamo al nostro tutorial io ho aperto questa foto di questa ragazza su questo tronco praticamente quello che andremo a fare è rendere nera l'immagine della ragazza per poi andarla ad applicare su questo sfondo per farlo cosa dobbiamo fare praticamente dobbiamo andare a selezionare tutta la ragazza e praticamente anche parte di questo tronco il che risulta abbastanza complicato visto che andare a selezionare tutto sia con lo strumento bacchetta magica come vedete cioè le selezioni diventerebbero molto complicate da fare e come si fa a ovviare a questa cosa è molto semplice adesso vi spiego appunto come procedere innanzitutto andiamo a duplicare quindi command j sulla tastiera andiamo a duplicare il nostro livello di sfondo questo lo deselezioniamo poi andiamo su nuovo riempimento andiamo a fare tinta unita la facciamo bianca ok e andiamo a portare al di sotto del livello 1 ossia livello della nostra fotografia dopodiché andiamo a cliccare due volte sul livello della foto come vedete ci apre stile di livello e in opzioni di fusione andiamo a spostare il cursore del bianco su questo livello appunto andremo ad agire sul livello della foto quindi su questo livello non su quello sottostante perché se andremo su quello sottostante praticamente userebbe quello di riempimento quindi stiamo su questo livello e come vedete se andiamo ad abbassare i nostri bianchi andiamo a eliminare praticamente gran parte dello sfondo l'unica cosa dobbiamo stare attenti ad andare a ritagliare troppo il nostro sfondo quindi ci portiamo io direi più o meno in questa posizione dopodiché teniamo premuto alt sulla tastiera facciamo clic su questo marcatore come vedete ce lo divide e qui possiamo andare a interagire meglio sui valori massimi e valori minimi del bianco fino a raggiungere bene o male insomma lo sfondo più omogeneo possibile in modo da andare a creare la nostra selezione in modo più semplice io direi che in questo modo va bene come vedete non va a intaccare troppo la sagoma la silhouette della ragazza le piante comunque bene o male ci rende ci lascia i rami le foglie come vedete il muschio qui quindi una volta settato bene i parametri facciamo ok e se noi andiamo a togliere il livello di sfondo come vedete già gran parte della selezione è stata fatta ora se noi andassimo però a fare command sulla tastiera per andare a fare la selezione no teniamo premuto command e selezioniamo il nostro livello lui ce lo seleziona tutto questo perché perché dobbiamo rendere questo livello in un oggetto avanzato quindi tasto destro del mouse sul livello 1 facciamo converti in oggetto avanzato e se noi adesso andiamo a fare command sul livello come vedete lui ci crea la nostra selezione in questo modo dopodiché non ci basta altro che tornare su nuovo livello di riempimento tinta unita in questo caso nera va bene facciamo ok e come vedete già la nostra immagine inizia a prendere forma se noi andiamo a tirar via vedete lo sfondo bianco già abbiamo ottenuto un buon risultato ora però dobbiamo andare a eliminare come vedete queste parti che sono rimaste grigie come facciamo innanzitutto ci portiamo sul livello della maschera che già creato prendiamo il nostro pennello e come sapete col nero toglie e col bianco aggiunge il problema che se io adesso col nero seleziono nero perché devo andare a togliere vado a pulire qui come vedete mi toglie anche la tinta unita nera che abbiamo messo al di sopra della nostra immagine quindi come facciamo per ovviare a questo problema ci portiamo selezionando il pennello nel metodo di fusione qui andiamo a fare sovrappone in questo modo se noi adesso andiamo a rimpicciolire e aumentare un po la sfumatura del pennello abbassiamo leggermente anche il flusso ed ora se noi andiamo a interagire come vedete si lascia intatto le nostre parti nere e ci va a cancellare invece le parti scure dietro quindi andiamo a fare questa operazione in tutto il contorno della nostra ragazza dopo una volta che abbiamo fatto il contorno possiamo tranquillamente usare il pennello normale comunque per adesso facciamo questa operazione vedete anche qui dai rami andiamo a togliere le parti in eccesso in questo modo ora io vado anche a ritagliare la mia immagine intanto la parte che mi interessa è questa qui quindi io voglio tenere questa parte dell'immagine quindi inutile che vada operare sul resto anche sopra posso tagliare tranquillamente in questo modo quindi continuiamo col nostro pennello sempre sulla nostra maschera e andiamo a togliere tutte le parti vicino alle immagini cioè all'immagine della silhouette che siamo andati a creare in questo modo una volta fatto i contorni possiamo tornare su metodo di fusione normale e andare a togliere le parti in eccesso in questo modo dopo comunque andremo a fare un'altra operazione per andare a interagire e togliere ulteriormente parte dello sfondo stessa cosa per i neri per la parte nera sempre sulla maschera adesso farò diminuire il mio pennello facciamo x quindi selezioniamo il bianco perché dobbiamo andare ad aggiungere però se io adesso vado ad aggiungere vedete rischio di andare a fare questa cosa quindi stessa cosa di prima andiamo livello di fusione sovrapponi e andiamo a interagire sul nostro livello in questo modo una volta sistemato soprattutto la parte dei capelli che la parte un po più complicata zoomando ulteriormente possiamo tornare in normale andiamo a diminuire di molto il nostro pennello e andiamo comunque a rifinire le parti che non ci ha selezionato perfettamente in questo modo qui la lente l'effetto della lente degli occhiali glielo lascio perché comunque a me non dispiace adesso sembra molto pixelato ma siamo un 300% se noi andiamo al 100% come vedete c'è la selezione è abbastanza buona ovvio che non si ottengono risultati esorbitanti come una selezione fatta su uno sfondo uniforme però già così siamo andati ad ottenere un ottimo risultato andiamo ad applicare le parti nere anche qui nel rambito qui qui tutte quelle parti bianche che sono rimaste io torno in sovrappone vado ad eliminare ho sbagliato seleziono il bianco e vado ad eliminare un po' qui queste zone bene e una volta ottenuto questo risultato possiamo tornare sul livello 1 quello appunto della nostra immagine già questo vedete è il nostro sfondo facciamo di nuovo doppio clic torniamo sempre interagire su questo livello se noi adesso andiamo ad abbassare ulteriormente i nostri bianchi come vedete andiamo a pulire ulteriormente la parte del cielo che era rimasta con questi aloni quindi andiamo ad abbassare i bianchi facciamo alt per andare a dividere il marcatore in modo da andare a interagire meglio io direi che in questo modo vada bene ora il resto torniamo sulla maschera possiamo andarla a eliminare tranquillamente a mano quindi torniamo su normale e andiamo a togliere le parti in eccesso come è scappato il mouse in questo modo bene una volta finito appunto di sistemare tutto quello che ci resta da fare è prendere il livello appunto della tinta unita che siamo andati a fare questo qui lo portiamo sopra a questo livello cioè al livello del tramonto poi che avete deciso di utilizzare e come vedete questo è il nostro risultato abbiamo selezionato la silhouette l'abbiamo resa nera e abbiamo applicato appunto il tramonto alle spalle bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa se avete una qualche domanda o una qualche richiesta visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti